mamma mia che carico ma lì che bocchezza e solti ce la faccio più oddio ma non hai fatto un barcone c'è un po' da rientra eh che ha un po' di fresco ma lì mamma mia ma che serve la piccola del giorno dopo eh ma ti ce l'hai bisogno di un giorno prima il radio c'è un cucino il radio c'è un cucino è il cucino pino che vuoi? t'ho detto che arrivo sei cinque minuti è inutile che chiami ogni mezz'ora ma quindi è vero tu lavori per la televisione? è vero che si a tre quattro ore da finire pagate amore amore stasera sei chicata da mori passa male anche ora di torco mo dico stavo io mochigato Grazie a tutti